dal garage fucsia esce un grande strano veicolo ha un braccio a traliccio e una pesante palla legata a un cavo attenzione gira su se stesso è un trattore con palla demolitrice dal garage giallo esce un'auto cisterna gialla dal garage blu esce un'auto cisterna blu dal garage verde esce un'auto cisterna verde dal garage rosso esce un'auto cisterna rossa una due tre quattro auto cisterne cosa stanno trasportando insieme all'acqua ci sono delle palline dove le porteranno andiamo con loro il semaforo è rosso fermiamoci arancione verde andiamo siamo di fronte a una casetta con il tetto giallo c'è un pulsante rosso clicchiamolo ehi! delicatamente con quella palla così pesante tante palline gialle e c'è un meraviglioso pesce giallo è bellissimo ma non può stare fuori dall'acqua salta nella cisterna pesce il camion cisterna porta via il pesce e il trattore demolitore va ad aprire la casetta successiva con il tetto blu piano piano tante palline blu è un pesce azzurro anche tu salta nella cisterna pesce apriamo la casetta con il tetto verde palline verdi e pesce verde palline verdi e pesce verde via nella cisterna vai pesce oh un bel salto ed ecco una casetta con il tetto rosso wow quante palline rosse e il pesce rosso bellissimo un bel salto via guardate una grande piscina blu i camion cisterna la riempiono palline rossi blu gialle e verdi un mare di palline colorate e in questo mare si tuffa il pesce giallo poi il pesce rosso quindi quello blu e infine quello verde evviva i pesci finalmente liberi nuotano e saltano in un mare pieno di colori buon divertimento amici e alla prossima puntata siamo qui nel parco giochi e lui è l'escavatore max ciao max dove stai portando la palla? su quel trampolino su quel trampolino un'altra palla max dai un colpa alla rete vedrai che rimbalzeranno ha visto? è divertente max ti va di giocare a nascondino oggi? questo è un nuovo sorpresa rosso noi lo nasconderemo e tu lo cercherai pronto? girati e non guardare dove lo possiamo mettere? qui? no max lo troverebbe subito e qui? sotto al trampolino? no non va bene ecco sì sì nascondiamolo dentro al garage max puoi aprire gli occhi acqua! max non c'è niente sotto lo scivolo ancora acqua non è nemmeno sul trampolino fuochino max quasi fuoco max spingi il bottone bravo max hai trovato l'uovo ben fatto vediamo cosa c'è dentro oh ci sono le parti per costruire un nuovo veicolo assembliamolo e che cos'è? ma sì è una barca motore portiamola in acqua è bellissima ben fatto max ci vediamo presto a divertirci ancora ciao